e apriamo il pool e vediamo che succede ok allora abbiamo roxanne e oko che sono molto forti il resto è ingiocabile la cosa positiva è che questa terra però c'è utile per queste due reanimates se non facciamo se giociamo il nego potrebbe anche essere giocato magda no, karm no, questo no, diciamo queste però roxanne e oko sono forti sicuramente e il resto sono ingiocabili però diciamo che il verde avendo roxanne e oko e avendo la botanical potremmo provare a vedere se è un bel verde vedo un ottimo bianco così a naso sheffard vedo removal, sheffard, alto removal diciamo il bianco non sembra malissimo diciamo un attimino, diamo uno sguardo così il verde è cortissimo il verde è cortissimo il verde è tanto 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 corto cioè proprio a livello numerico ci sono uno, due, tre, cinque carte giocabili poi c'è Miriam, il bianco l'abbiamo visto bene, il verde è corto potevo andare un po' meglio vabbè iniziamo a vedere le varie cose ciao Mauro, buongiorno, buongiorno eh, non è andata benissimo vediamo l'eventuale inclusione vediamo un attimino partiamo da questo discorso qui che se non mi convince proprio ma proprio per nulla mi convince il bianco non è male è buggata pure la visualizzazione qua eppure il blu fa un po' così perché me le dà tutte sfasate un attimo vedo se è un no 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 eppure per splashare non c'è nulla in realtà vediamo questa vediamo questa non si può giocare il verde il verde non si può giocare no il verde purtroppo non si può giocare per nulla anche se abbiamo Okoe cioè è proprio corto il mazzo è proprio corto il mazzo oh yes allora probabilmente il colore migliore è il nero ma in realtà è cortissimo anche il nero l'unico un po' meno corto è il bianco ma in realtà è proprio uscito un pool difficile da gestire poche creature mi sembra in generale in tutti i colori più o meno vediamo se è l'esnia eventualmente da splashare di blu con Miriam più che altro abbiamo Miriam abbiamo due removal abbiamo lo Sheffard abbiamo volanti almeno qua almeno qui abbiamo volanti e i Remu li giochiamo tutti se il mazzo è questo e non abbiamo splash sicurati caro grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Lo rimuva e li mettiamo qua. Questo cerca terra, quindi questo un po' lo splash ce lo aiuta, tecnicamente. Grazie a tutti. Qua ci prendiamo tante di quelle botte oggi, raga. Questo anche però ci aiuta a cercare terra. Questo ci aiuta a cercare terra, volendo. Grazie a tutti. No, best of three eh, quindi si giocano 17 terra e non giocatene di meno mai. Best of three non c'è l'algoritmo che è giusto, quindi si devono giocare 17. Abbiamo tre fonti blu, due fonti rosse. Vabbè, questo ci prenderà sempre questo. Abbiamo solo una carta che è necessaria di fonti costa e che è Roxanne. No, nero no, è corto. Nero è corto e ha di carte forti tre. Il nero ha tre carte forti più reanimate. Gli altri sono filler, pure nel nero. Tanto vale che... Cioè almeno sto valutando ovviamente. Tanto vale che mi prova a giocare le bombe. E qua ci sono... Questo è un altro removal eh. Però tricolor. Dopo facciamo una zuppona qua. Potremmo anche fare una zuppona e mettere dentro pure razze. Minchia, ci facciamo... Eh però in realtà i deserti per il nero ce li ho. Quindi non ha senso non farli. Possiamo aggiungere pure una carta nera. I deserti ce li ho... Ciao Kazama. Sì, le bombe... Allora, le bombe sono uscite. Perché comunque Oko è una bomba e Roxanne è una bomba. E che abbiamo colori un po' corti e molti filler da giocare. Il nero lo posso giocare. Ma dopo facciamo una zuppa incredibile. Però il nero si gioca. Abbiamo tre fonti nere gratis. Se giochiamo questa combinazione. Quindi a quel punto... Ratstain si mette dentro. E anche Revival. Dobbiamo togliere un removal brutto. E quattro colori, ragazzi. Cinque colori. Cinque colori. Cinque. Cinque colori. Però ci sta, secondo me. Perché il nero è gratis. Abbiamo tre fix neri nei colori. Quindi alla fine non ha senso non giocarlo il nero. Cioè, le due bombe vere. Questa a doppio costo no. E questa a drop basso no. Però Ratstain e Revival. Perché non dovrei giocarli? Non dico reanimate. Anche se... Anche se... Anche se... Anche reanimate potrei giocare. Buona che cafonata esce. Purpa, forse non hai ascoltato quello che ho detto prima. No suggerimenti. Quindi non io toglierei, io farei, io metterei, metti quello, fai quello. Mi raccomando che non ci sono mod e la wizard non accetta questo tipo di cose. Quindi mi raccomando, non suggerimenti. Considerazioni sì, tipo il verde mi piace, il nero non mi piace. Questo sì. Io metterei, io farei, io toglierei. Purtroppo non ci sono mod oggi in chat. Mi raccomando, queste cose no. Perché non è permesso. Viene letto come suggerimento. Comunque, la leggo come il verde non mi piace. Ci sta, nel senso, nemmeno a me il verde è cortissimo. Però va anche detto che Roxanne e Oko sono verdi. Le due bombe nere sono sul verde, quindi... Quindi sì, c'è Miriam, però effettivamente il verde non è niente di che... E' un'altra cosa. Qu'è la cosa? E non è? C'è una cosa? stavo guardando questa cosa qui che hai detto tu teoricamente ho solo l'Arix e il Bygone però in troppa due nei colori principali e si becca removal spieghiamo quindi più o meno gli avversari non lo sanno che non ho un mount ciao Maxino il rosso non è niente di che questa è la realtà cioè questo che non è male ma in una meccanica specifica che non abbiamo è Magda allora la cosa buona del verde cioè le carte verdi sono poche ma sono bombe nel senso che Dance bomba, Clare Shot bomba, Paladino bomba il Green Blade bomba, Commando Super Filler però se riusciamo a mettere dei 5-5 in un formato in cui non ci sono moltissime removal potrebbe essere un buon modo di stabilizzare la board questo è un filler completo come se mi ordina meglio il deck come se mi ordina meglio il deck come se mi ordina meglio il deck allora contiamo un attimo alla base fonti bianche ne abbiamo 7 fonti verdi ne abbiamo 7 più 1 però contiamo senza questa fonti bianche 7 fonti verdi 8 fonti blu 2 più 1 fonti gosse 1 più 1 però abbiamo Green Blade Dance e quantomeno il mazzo è sempre divertente qui 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E senza verde tolgo la possibilità di usare Greenblade e Dance. Quindi quello è un problema. Ci sono le due carte che mi permettono di trovare Splash. Mi sa che andiamo così. Mi sa che andiamo così. Vediamo, deve girarci bene. Se ci gira bene, qualche possibilità ce l'abbiamo di fare due. Non dico, cioè questo non è un mazzo che vinci il qualifier, questo sicuramente. Cinque colori, five color. Tuppa, five color. Oh no, non mi abbatto, per carità. È solo che, diciamo che questo tipo di mazzo, diciamo molto dipendente da come ti gira, perché poi alla fine cinque colori deve girarti bene il mazzo. Anche se è un cinque colori con molti deserti. Alla fine l'unica carta fuori dai colori è la... No, sono due. Montagna, perché sarebbe un Selesnia Splashato di tutto. Non è il massimo per un qualifier, però non vedo altre configurazioni migliori. Ah vabbè, se possiamo OCO T4, protetto da un po' di roba, ovviamente il problema è dell'avversario. Ci sono delle bombe, ci sono molte bombe. Ci sono... I removal ce li abbiamo quattro, più uno di side, che potrei pensare anche di metterlo, se mi serve. Se mi serve, questo qui di side entra. Abbiamo reanimini, quindi alla fine due per uno eventuali. Anche Ratsen se riusciamo a metterlo, subito ci dà... Magari dopo aver trallato un drop a due. Questi installano un minimo, insomma. Abbiamo dei volanti, eh. Abbiamo sia Sheffield che anche il supplier. Quei roccone. Perché questa è bella carta. La cosa positiva è che le cose più pesanti da splashare sono in late. Il mazzo è questo, sì, secondo me il mazzo è questo. Allora, giusto per andare a... per toglierci lo scupolo. Del bianco abbiamo pure tutto quello che serve. È un best of three, quindi questa è una side che possiamo usare. Eventualmente l'ulabi la possiamo rimettere in side. Il blu ha due squali. Questo è... vabbè, ci armi ingiocabile. Il nero potrò pensare di mettere reanimate, ci sto pensando ancora, perché reanimate potrebbe essere una bella bomba da mettere dentro. Da valutare eventualmente in side, se becchiamo un Golgari, uno che si milla, potrebbe essere una bella idea di mettere reanimate. Però al momento lo lascio di side. Però per il resto c'è doppia plunder, però anche qui. Removal, doppia plunder, eventualmente questo, ma... Certo, c'è anche un removal, anche qui, che andrebbe a prendere il posto di Clash Shot, ma giocando il nero di colore principale non potrei fare splashing. Quindi... O, è 41. Verde è quello che è, è rosso quello che è. È un tipo losco. Si, reanimate lo giocherò di side. Reanimate lo giocherò di side, perché sto a 15, ho 8, e... Potrei togliere un Bygorn e mettere reanimate, è quello a cui sto pensando. Miriam, come troppa a 2, la vorrei tenere, anche se il doppio colore è pesante. Il doppio colore è pesante, ma è troppa a 2 e qua mi servono. Contro un mazzo, contro qualsiasi mazzi che si millano, metto reanimate. Comunque, è tanto forte reanimate, reanimate è tanto forte. Reanimate è forte, forte. Però teniamo di side. Questo fa 2 per 1, eh, comunque questo... Poi il nero di primo, cioè il... Questo non si usa di primo, per carità. L'unico dubbio che ho a reanimate. L'unico dubbio che ho a reanimate, ragazzi. L'unico dubbio che ho. E' come se fosse una creatura, alla fine. E' come se fosse una creatura e... E' sti cazzi. E' come se fosse una creatura, all'unico dubbio che ho imp Jackie Babin. L'unico dubbio è un sacco ma ero. E' come se fosse per fare, alla fine. Grazie. Grazie. Perdi punti vita, potrebbe anche essere una carta morta in mano, e quindi no, eventualmente decide, dai rimango ancorato a quello. Sì sì sì, sono contento che, pensate quello che penso anch'io, nel senso che anch'io ragionavo sul fatto del mount, Miriam non la posso togliere perché mi servono i troppi a due, se no male male, qua dobbiamo resistere il più possibile. Stavo addirittura pensando di buttare dentro questo, ma, che fa tesoro e quindi aiuta a splashare, però fa schifo. Però fa tesoro e aiuta a splashare. Però costa tre, fa schifo. Dai andiamo così e vediamo che succede, dai. Andiamo così e vediamo che succede. Lo so che non mi snipero, che non sono nessuno, eccetera eccetera. Però mi sento più tranquillo a giocare così. Ok. Oh maurice. Il ventaglio. O che è il ventaglio? prego spax non è una mia responsabilità mi piace quel 4-4 va tolto quel drop a4 va tolto ho tolto un tappet si, si percaterra lui questo c'ha sicuro velo ma sicuro proprio sicuro velo c'ha questo grazie a tutti ok non è più aperto di velo non è più aperto di velo se usa pezzo va bene è tappato fuori togliamo il 4-4 va bene ok non è più aperto di velo non è più aperto di velo questo c'ha velo questo c'ha velo sicuro però lo facciamo usare così poi si attacca vabbè si attacca lo possiamo togliere con l'ullabi anche se lui ci toglie adesso Roxanne Roxanne no non attacco ovviamente non è più 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 non perdiamo adesso un altro velo un sacco di sé siamo a 14 e comunque siamo messi male siamo queste quante creature ci ha dipende qua male male potrebbe avere la carta rossa che è la vince lo c'è a velo pulo grazie ciao gaspar di caro grazie no no niente avevo solo scritto se c'era qualche mod che poteva venire era una situazione delicata se non che mi sono preso un terror de pics questo non si mille e questo lo esilio essenzialmente quindi rimaniamo così mancano tutti gli altri colori qua purtroppo però vediamo questo lo plotto ok assoluta cosa che ammazzi gli spettatori praticamente grazie grazie e dove l'ha tolto credo vada tolto ok se ti prende il coso va bene ok 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 a due peli questo ricordiamoci ecco ok ecco 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 a velo però ci proviamo ma credo abbia velo credo abbia velo sennò è giocata folle grazie 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 ciao paglietta buon pomeriggio che hai in mano? grazie grazie siiii deserto qua ha beccato una combo questo no non è tenibile questo non partire con troppa a 2 non partire con troppa a 2 non partire con troppa a 2 ok qua male male qua male male oddio no è doppio mal di che non me lo so sentito eh sono costretto a farlo tra l'altro se non ha velo ok non abbiamo perso sappiamo che è il vermint la rantola rapida ok eeeh non li posso prendere sette danni no non li posso prendere mi sa che andiamo agevolmente a game 2 potrebbe pare smash abbiamo visto che ha smash ok grazie grazie è il più 2 più 0 a tutti però se tanto blocco così ho perso turno dopo matematicamente quindi mi sa che l'unico è proprio a fare value qua se ha il più 2 più 0 a tutti ho perso a prescindere turno dopo non posso fare nulla vado a 8, 9 e 10 vado a 4 senza pezzi con lui quindi è matematico quindi l'unico è questa per sopravvivere se ce l'ha ce l'ha va bene tutto come previsto va bene la prima è persa 2-1 con onore con onore con onore così fai eh fai così fai così io faccio faccio così grazie a tutti no sembra selesnia ma non è selesnia è 5 colori però per il momento sembra selesnia per il momento sembra selesnia non è dai ma spingo io cazzo mene ma spingo Grazie. 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 Ma che ho fatto? Ma che ho fatto? No, cazzo. Dai, cazzo. Ho miscliccato, vabbè. Questo è grave, ho miscliccato. Pazzo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ho miscliccato, non ci posso credere. No, non ci posso credere. Vabbè, fa merito di perdere assolutamente. Mi scliccato incredibile, incredibile, incredibile. 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 Ah, no, 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 no. Vabbè, qua proprio no. Dai, ma come cazzo è che non chiede conferma sta carta? No, non ci posso credere. Buon altro. No, non ciò che non posso credere. Grazie. No, questa cosa non mi... Cioè, questa cosa è assurda. E se perdo perché perdo, vabbè, ma se faccio le cazzate io mi infastidisco tantissimo. Questo c'è altro, c'ha pure velo. Sicuro c'ha velo. Quella carta non è velo. No, non è velo. No, non è velo. Non meritavo oggi. Cioè, se fai una cazzata come quello che ho fatto io, che proprio mi sclicchia un qualifier, non meriti assolutamente di vincere un game. Assolutamente di vincere un game. Quindi... Ma perché non chiede conferma con la carta incredibile? Gli altri chiedono conferma di solito. Grazie. 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 possibile che non le sbaglio mai ste cose normalmente grazie grazie andiamo a 16 contappa qua lui andiamo a 16 qua si plottano sti due si mettono sti due per rifare vita turno dopo percaterra lui terra più removal percaterra è fermato 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 adesso sappiamo che ce l'ha cosa che non la rende meno forte però almeno sappiamo che ce l'ha però siamo on day play dobbiamo fare la nostra partita qui non la rende meno forte attacco perché non può sellarla fare quindi meglio far sì due danni io sarei per mettere il 3-3 qua sì 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 il 2-2 o lo gioca il 2-2 o 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 omettiamo che non c'era cosa che o o o o o più uno lifelink ok me lo sono tenuto per quello lui in mano questo non attacca per adesso o 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 fatta instant una delle cose più brutte che ti poteva capitare non è zero non abbiamo fatto zero meno questo e quindi questa cosa la subiamo però diciamo avendo Oku e Roxanne comunque non mi posso lamentare delle bombe il resto del mazzo ho dovuto un po' improvvisarlo sui cinque colori però Oku e Roxanne sono tre colori diversi poi il verde è la cortina però se riesco ad arrivare alle bombe comunque che non è la pratta instant però devo pescare le terre qua ok dobbiamo pescare le terre gioca a 41 no ma di cazzo ciao don gelato benvenuto grazie per il follow ma posso fare a meno di questa ok madonna grazie a tutti mi prendo un rischio qua perché ho l'altro removal in mano e perché ho la resa dalla mia essenzialmente facciamo un danno in più ho anche il tappino volendo quello potrebbe essere pericoloso dipende che mazzo c'ha lui qui Grazie a tutti Questo c'ha counter Questo c'ha sicuramente counter Oh sì dai Un'account Oh sì dai Ehiro 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 Però c'ha il remove all'incantesimo Ehiro 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 Comunque un mid con curva alta Come sembra La tengo perché c'ho il surveil Anche il verde Non vedrò Di tenere la tengo Dobbiamo trovare terra con surveil Terra verde Troppo a due non ce l'ho Vai Vabbè Inaugurazione dove caro Perdonami se abbiamo già parlato di questa cosa ma non nel caso non ricordo Sì Se me lo toglie c'ho il berstal Che sta messo così questo Ehiro 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 Ah no è bloccato solo con uno Pensavo traallas ecco due avevo capito a che serviva il 2-4 ok quella lì è un problema enorme quella vince da sola basta punto ok ok questo c'ha counter più o poi c'ha un counter ok o almeno due cavolo due almeno l'abbiamo fatto lutec io ho quato il gomigiam ho quato il gomigiam non ha senso perché oddio voglio togliere migam ed elmo carissimo grazie per il ride caro tu pongo non ti sia andato benissimo mi dispiace qua stiamo facendo un 5 colori zuppa che non so quante soddisfazioni ci darà però grazie per il ride intanto grazie carissimo ciao matron benvenuto benvenuti a tutti ragazzi qua forse tolgo migam sono indecisissimo sti cazzo non ho un mount come troppo a due non lo faccio facilmente se pesco terra bianca dove andrà così ci proviamo caro ci proviamo almeno l'ho fatto zero che avevo pure di fare zero con il 5 colori ciao bracco qua dobbiamo usare questa per rampare che non sarà rampare sarà non saltare land drop bronco a prescindere da cosa io ne penso mi pare che stia avendo risultati in un sacco di formati quindi direi abbastanza forte 3-2 questo maledizione vabbè abbiamo cosa fare turno dopo però fa 5 punti vita non me la sento di buttare via a rimuovarlo no non me la sento non me la sento hai saltato land drop pure tu qua un po' meglio allora hai saltato land drop anche tu un po' meglio ok questo sarà con qualcosa da utilizzare questo clear shot un bersaglio allora picchio paladì tastanimus è fortissimo l'unico throwback che c'è che se no sarebbe invincibile è che l'avversario può aspettarselo cioè io adesso so che fra due turni mi arriva lui e quindi sono diciamo avvisato del pericolo un po' meglio Grazie a tutti. 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 Alla... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok... Grazie a tutti. Ok... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E... 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 Va bene. Prendo la blu nera... Posso... Posso aspettare... la blu nera... Plotto... Non ha gioco... Vabbè... non perdiamo... adesso... Andiamo a 10... ha il più... e... 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 Per... ok... e... e... costa... su tutte e... 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 Allora... e... 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 se... e... e... anche per... potrei... e... non... lottato... for... e... oddio... e... 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 blocco... e... blocco... blocco... e... blocco... e... guarda non è terra quindi va bene rifichisco sta aperto di clear shot qui si inventa un altro gold rush e cose simili devo fare adesso non ho capito ok non ho removal dobbiamo trovare una con il dust per il dust animus qui ok ok adesso c'è anche questo che merita la nostra attenzione c'è anche questo che merita la nostra attenzione non terra ti prego questo dobbiamo trovare removal adesso cioè tipo top deck di removal in questo istante e poi dobbiamo gestire il 4-3 ovviamente però sul 4-5 dobbiamo trovare removal adesso non assomiglio removal a questo non blocca con bandito qua oddio è un altro unicorno è un altro unicorno in mano o sei sicurissimo di te ok ho capito adesso nuovo 1 due qui è un altro istante è un altro istante la cosa positiva è che un impegno alle 18 che stavo per spostare ma non serviva a spostarlo la cosa negativa è che faremo due se vede l'animus volanti e quelle cose là la tecnica del piano non servirà a niente è un dato di fatto ottima tecnica del nulla abbiamo tutti i colori quasi dai questa giochiamo di terzo se ce la toglie abbiamo il bersaglio per ratstein ok solo una volta ma non essere sì no in realtà una volta ce l'ha fatta pure vincere sì a questo lo stiamo bersagliando di cose vai di troppo a tre quasi sping oh è loco quell'altro purtroppo il gemello 2-2 no purato è scemo oddio pratta pratta istant potta potta il remove l'andato alle 9 proprio qua ecco vedi cioè ci vuole poco qua ci vuole poco qua a spostare appuntamenti no non spostiamo niente per le 6 è ancora valido toglierei una pianura questo non lo butto mai in fondo abbiamo un remove al buono questo non lo butto in fondo si cazzi non lo butto in fondo se non parte velocissimo il dottor dive 242 questo fastidioso eh è un'ottima è un'ottima che se qui sta perché no pianura a t1 per fare 2 2 a 2 perché non ho un 2 2 quasi fa 33 per la cosa che hai visto a due caro non è il 22 assomiglia come carta non è il 22 un'altra carta questa acqua vita non ci vede questa questa qui si può essere che nella mallicata vediamo se bro a velo non ha velo ok il fatto che qui non ho trovato velo è ottimo a tarantola porto due tarantola male ma non voglio usare muva su tarantola preferisco tradarla diamossi da anni non li voglio dare non voglio farli vantaggio carte o andremo sicuramente a 10 che non è un gran che così andrà e vabbè doppia tarantola però adesso mi pare un po eccessivo doppia tarantola non è giusto vabbè qua c'ha 18 mila veli ma ci si prova lo stesso davvero o indistruttibile abbiamo risolto due tarantole vediamo il lato positivo abbiamo risolto doppia tarantola che adesso resuscita 100% perché sennò il nero perché ce l'ha a fare il nero ce l'ha per un motivo come ce l'abbiamo noi per un motivo ok se pesco terra posso fare oxan se pesco terra posso fare oxan non ho pescato terra non ho pescato terra non ho pescato terra questo si sta guardando si torna 5-5 per carità però voglio aspettare un attimo eh bravo Jacopo perché se riesco a castare oxan e poi me lo toglie subito e lo faccio su oxan diventa importante come giocata siamo insomma a 9 un bloccante ce l'ho magari ho sbagliato però ho scelto così qua io non me la prendo sto danno dai terra dai dai terra stappata terra stappata terra stappata terra stappata il problema è che adesso tornano due tarantone sicuramente perché non è un mount questo questo lo mette in mano lo plotta non è positivissimo poi il tutto ehi vabbè bonnipalla dai su non c'è niente che si possa fare no 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 bonnipalla no no bonnipalla no non è non è gestibile adesso bonnipalla non concedo vediamo se ci fa vedere altre cose perché si toccava sempre il cimitero e perché gioca il nero soprattutto ragazzi la domanda da farsi è perché gioca il nero perché ha qualche potrebbe tranquillamente avere anche il la sorcery a 6 mi fa vedere un'altra carta è l'ital sempre quasi sì 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 oppo mazzo vero oppo mazzo vero via via bygone giochiamo col drop a2 doppia nulla via vediamo che succede sì eh ci ho pensato però dei punti vita ogni volta vediamo ha un mazzo che lui fa tacchiature grosse fanno un po' di attacchi da vedere non è che si milla a lui capito quindi questo è un keep non è un keep eccezionale ma siamo on the play abbiamo la curva teniamo uh che gentile Alex capita si vince e si perde a parte del gioco per catere il bro ok l'aver fatto 3 con un con un doppio colore comunque a me è piaciuta come cosa una cosa gradita questo lo plot turno dopo dai teniamolo e attacco lo stesso sì sì lo plot turno dopo va bene dai dai cerchiamo di andare di race qui e i colori ce li abbiamo oh speriamo abbia anche lui un appuntamento e conceda io devo andare dai in un quarto d'ora ce la faccio dai per scontato cose che non sono scontate caro e comunque no vince magic a prescindere anche forse vince magic non abbiamo il rosso purtroppo devo mettere giù questo non abbiamo il rosso nel piano agralo non è previsto giocare carte in cui non abbiamo il colore al momento per giocare anche perché lui fa taranto le cose insomma ce l'ha di cosa da fare deserto ce l'ha può fare tarantola già e nicolo questo sarà peggio niente quasi deve andare in cielo race in cielo eh ci sta ci sta caro è molto più facile perdere che vincere il livello è molto alto comunque qualifier quindi sì contento di esserci arrivato prossima volta andrà sicuramente meglio io ho fatto un botto di qualifier ho fatto un sacco di volte zero e non mi vergogno a dirlo ci sta è un taso di fatto qua si andrà di volanti e non mi vergogno allora il rosso potrebbe tornarci però sai che ti dico io a tre lo vorrei mandare lui quindi scelgo questa linea scegliamo questa linea a tre lo voglio mandare penso sia importante qua mandarlo a tre se esce Roxanne impazzisco va bene così però mandarlo a tre secondo me qua non è banale come cosa dunque tre è un attacco di volante attacco molto particolare ha il più uno più uno lifelink quindi noi non glielo facciamo cioè se lo voglio io dobbiamo più uno più uno lifelink è qua allora sti cazzi rovesciamo il tavolo qui o G2 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 siamo sempre là preferisco il doppio removal preferisco sempre il doppio removal e MIGAM almeno un drop a 2 potrebbe essere l'ultimo game di questo qualifier se non ricordo male però controllerò abbiamo perso 2 a 0 no mai 2 a 0 o forse 2 a 0 solo una quella col boros aggressivissimo gli altri 2 a 1 quindi dai va bene abbiamo fatto le win giornaliere almeno come non potrebbero essere la SEGAS il pomeriggio mi distruggono a me queste fare le cose di pomeriggio il weekend solo che lo fanno per l'aero americano ovviamente ma vi piace il ventaglio che ha fatto Rocco e addirittura mi ha messo il buco per i punti vita sotto richiesta stand out stand out stand out è bello eh è un artista Rocco è chi sono artisti anche amici di Sbusto Studio che mi hanno regalato delle carte bellissime se volete comprare delle carte ragazzi mi raccomando Sbusto Studio su Twitch che vende pure le cartine mi hanno fatto veramente un bel regalo quindi sì ma a prescindere anche da regalo sono Mattia è un ragazzo molto molto in campo eh sì ah sì ah sì ti ho detto DCL già che si è arrivato a qualifare devi essere contento tutti abbiamo fatto un botto di volte zero anche qua c'è Borpo che è uno che gioca spesso qualifare anche Alex anche Alex M-Team e altri diciamo che è il livello è abbastanza tosto e poi si le dà anche molto a fortuna e quindi ok è in colo screw lui forse o vuole farmi credere questo cosa si mette cosa si mette in cima noi purtroppo abbiamo mano lenta questo sarà un drop a 3 ah non è ancora iniziato tu caro qua mettiamo il 3-3 sì mettiamo il 3-3 perché altra terra dopo lui mettiamo il 3-3 se ce lo bruciano lo possiamo riprendere sì ma non abbiamo il nero per questo però dentro il 3-3 ma non abbiamo il nero per questo Grazie a tutti. Vediamo non blocchi con 2.4. Non blocco bruttissimo questo, eh, se posso. Blocco ovviamente brutto questo. Blocco brutto tanto, eh. Che non ha giocato intorno a quella. Vai, vai, Borpi, un bocca al lupo. Blocco bruttino questo, cioè, clear shot non ha giocato intorno. Ci sta, eh. Però a cosa ha giocato intorno a bloccare con tutte e tre? Però finché c'è Oko c'è poco da essere contenti. Byroxen. Nonostante il blocco brutto, qui Oko snowball, eh. Dobbiamo mettere il volante a gratis, qui. Per togliere poi Oko. Ha due carte in mano. L'unica. È l'unica. Sperando che non abbia risposta. Non vedo altre giocate, onestamente. Ma domanda, è l'unica. perché removal per il 4-3 qui o vuole fare crimine adesso però bianco ok ha pescato il deserto se no lo giocava prima per fare crimine prendiamo l'abbiato removal sul 4-3 perché dobbiamo togliere Oco dobbiamo togliere per forza Oco e non pescare adesso il nostro perché non possiamo giocarlo Roxanne sarebbe un'ottima pescata io vabbè già subito Bonnipal Bonnipal così no Bonnipal così no 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 vabbè non ne abbiamo quindi niente bonnipallo non abbiamo risposta abbiamo fatto 3 va bene va bene meglio di 2 meglio di 1 meglio di 0 peggio di 4